Gli elementi caratteristici di questo paese è che è un paese tipicamente medievale. Viene nominato paese romantico in quanto nella sua storia ci sono due giovani che sono fuggiti dal Jus Prima Noctis del Conte Oberto di Ventimiglia dal paese di Montalto e hanno formato questo paese. È un paese integro in quanto è stato costruito con pietre squadrate e non con pietre di fiume e quindi è un paese che ha la sua bellezza ancora visibile ai giorni nostri da migliaia di anni. Per noi essere bisturi paese significa essere un punto, un centro di informazione non solo ma un punto di incontro per il paese, per i turisti, per la valle e per tutti i produttori locali che producono prodotti tipici e quindi devono essere segnalati visibili e riconosciuti.